Ti basterà premere per ottenere la formula dei quattro elementi chiave usati dalle macchine da caffè professionali. Il sistema ImpressPack offre dosaggio intelligente, pressatura assistita con una torsione professionale di 7 gradi, misurazione precisa che corregge la dose successiva, eliminando ogni difficoltà. Tutto ciò che ti serve per goderti il caffè di terza generazione a casa tua. Il meglio di The Barista Express con il sistema ImpressPack. Basta premere per ottenere l'eccellenza con Sage.